I candidati sindaco di Prato a confronto con gli imprenditori. Il dibattito organizzato da Toscana TV e Notizie di Prato è andato in scena questo pomeriggio al Palazzo dell'Industria di Via Valentini. Presenti in sala molti soci dell'Unione Industriale Pratese che hanno sondato i candidati su tutti i temi più cari alla classe imprenditoriale pratese, dalle infrastrutture con in primisi la questione per etola alla legalità economica. All'appuntamento si sono presentati sette candidati con le uniche assenze di Mariangela Verdolini del Movimento 5 Stelle e Alessandro Rubino di Prato Viva che hanno declinato l'invito. Davanti alla platea di imprenditori si sono quindi confrontati Matteo Biffoni, Riccardo Bini, Emiliano Bonini, Roberto Cenni, Gisberto Gallucci, Carlo Lavinia e Mario Tognocchi. Il Presidente dell'Unione, Andrea Cavicchi, presentando il dibattito condotto da Daniele Magrini, ha riassunto quelle che sono le principali richieste degli imprenditori pratesi, a cominciare da un ritorno alle regole. Vi chiediamo un'attenzione forte sull'industria, sul distretto e sulla nostra associazione, perché crediamo fortemente nell'importanza della permanenza dell'industria su questo territorio, ma soprattutto di un tipo di industria, un'industria che si punti fortemente sull'etica. Per chiudere con un appello al futuro sindaco. Vi chiediamo e chiediamo un impegno forte a chiunque diventi sindaco, che poi una volta diventato sindaco si possa iniziare un percorso insieme con l'associazione industriale, perché da parte nostra c'è la volontà di portare un contributo forte nella politica cittadina, di dare dei contributi anche dal punto di vista delle imprese e di fare un programma insieme, per lavorare insieme su questa città.